Una decina i progetti pervenuti alla giuria di Port de No Next, città a misura di futuro, che ha premiato i tre finalisti martedì 20 dicembre con assegne e prospettive di collaborazione lavorativa. Port de No Next è stata l'opportunità per i giovani dai 18 ai 30 anni di tradurre in progetto concreto i loro bisogni e la loro visione di area vasta urbana, sostenibile, con un'alta qualità della vita rispetto all'abitare, ai servizi, alla cultura, alla mobilità e all'ambiente. Questo progetto è stato reso possibile da un finanziamento europeo e da un bando emesso da ANCI nazionale. La città di Port de No Next ha partecipato a questo bando ed è una delle dieci città finanziate ed è stato l'unico comune che si è concentrato sui giovani. È un modo per dare la possibilità ai ragazzi di aver sviluppato delle idee, anche oltretutto attuabili, da parte dell'amministrazione e da parte dei privati se coinvolti. Diciamo che tutte le idee premiate hanno punti molto interessanti, quindi crediamo che l'amministrazione e anche i privati in qualche maniera li debbano tenere assolutamente in considerazione. Sono orgogliosa dell'assessorato che riguarda le politiche europee, ma un po' interdisciplinare, quindi mi fa piacere quando queste politiche europee riguardano i ragazzi soprattutto e ho trovato delle innovazioni. Devo dire che in mente mia veramente mi era molto piaciuto il primo arrivato. Non mi sono espressa perché ovviamente non volevo essere, però oggettivamente ha presentato un progetto molto importante e sono veramente stupefatta delle loro iniziative, della loro fantasia e soprattutto dell'individuare i problemi. Io ho detto prima che devono darci delle idee e lui, proprio il primo, ha dato l'idea di un luogo che è un'idea comunque dell'amministrazione di individuare un luogo proprio per i ragazzi, quindi ci hanno prevenuto, giustamente sono giovani. Ecco, ringrazio poi gli sponsor, tutti quanti ovviamente, perché hanno sostenuto questo progetto comunque dal punto di vista finanziario, dando anche un incremento economico che non è evidentemente di poco conto. Con il nostro progetto Isola Verde Amman noi vogliamo recuperare quella che è l'ex donna del cotonificio Amman e creare un centro d'avanguardia che diventi il fulcro anche della vita non solo della provincia ma in generale in Italia perché stiamo pensando veramente a un progetto molto grande a lungo termine in cui si creeranno dei centri sia di ricerca che di sviluppo all'avanguardia ma anche dei centri di attività economica incentrati sull'imprenditoria giovanile e la sostenibilità che secondo noi sono i driver di quelli che sono i valori per i futuri acquirenti italiani. Inoltre comunque si è pensato a grande spazio anche alla cultura, a creare delle agorà dedicate anche a grandi figure pordenonesi e ancora spazi per lo sviluppo delle soft skills di team dedicate allo sport sia all'aperto che al chiuso e anche noi Urban Forest dedicati allo spazio verde all'interno della città perché questa zona è veramente molto attaccata alla città. Grazie a tutti.